Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova tangenziale nord tra Cesano Maderno e Seveso. Un nuovo asse stradale di 483 metri accompagnato da altri interventi destinati a garantire una migliore viabilità locale attraverso un sistema di rotatorie, il sovrappasso del Seveso e un sottopasso ciclopedonale con la chiusura del passaggio a livello di via Como a Seveso. Un'opera importante che indubbiamente a noi darà il vantaggio di chiudere un passaggio a livello per cui maggiore sicurezza è anche sulle tempistiche dei treni, ma soprattutto darà un grosso aiuto alla viabilità locale sia dolce per cui ciclabile e pedonale, ma soprattutto veicolare tra i due comuni. Opere dal valore di oltre 21 milioni e 300 mila euro finanziate da Regione Lombardia con conclusione dei lavori prevista per il 2025, in attesa di assistere alle importanti novità che riguarderanno le due città interessate, Cesano Maderno e Seveso. È uno dei tasselli di collegamento per la fluidificazione anche del traffico pedonale e viario molto importanti e atteso da tantissimi anni. Finalmente ci siamo, i lavori partono grazie appunto all'individuazione di un'impresa che ha già iniziato le prime opere preliminari e che nei prossimi mesi andrà a realizzare un'infrastruttura davvero attesa. È un'opera che sicuramente agevolerà la viabilità e quindi la qualità della vita su Seveso perché almeno in parte le persone non saranno costrette a fare ore e ore della propria vita davanti alla chiusura dei passaggi a livelli. E sicuramente sarà un beneficio anche per il commercio perché sarà un transito per i camion, per i mezzi pesanti e sarà un'opera importante che probabilmente durante la canterizzazione avremo delle problematiche ma a lungo termine darà dei grossi benefici a una Seveso che da oggi non sarà più la stessa.